Buongiorno da Sanremo, come avrete capito. La Franci ha una cosa che io invidio infinitamente. I nonni. Esatto. E quindi siamo venuti qua, anzi lei è venuta qua già da due giorni, io li ho raggiunti ieri perché oggi stiamo con i nonni, in spiaggia, a pranzo e a cena. Tenetevi ristretti sempre, sempre, sempre. Vi faccio tutt'ora adesso. Buonasera. 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 Buonasera, è un onore per me essere qui con voi. Le Gossip Girls sono emozionate perché Francesco Appini, come vedete, è a cena con i suoceri e con la sua bellissima Francesca Viverit. Ciao ciao.